866 E qui siamo con Zou, Yakin Zou Wow, bravissima Rondata, flick Doppio salto raccolto Semplice Ma eseguito molto bene, ampio Composta Mentre vediamo Non inquadrata, già pronta per il volteggio Arianna Berardelli La sua rincorsa Rondata, flick Triplo avvitamento E di rimbalzo un salto avanti raccolto Una combinazione Non si vede Spesso, è molto complicata Non ha una grande rincorsa Ma nonostante questo Sta comunque per un concetto di squadra Non per una finale Presentando un buon esercizio Rondata, flick Salto teso con due avvitamenti e mezzo Di rimbalzo salto avanti Carpiato molto bene per un concetto di squadra E per pensare di vedere La Cina sul podio Soprattutto questa ginnasta ha dimostrato Vigor di avere una grandissima reattività Molto esplosiva, sì Mentre Arianna Berardelli Ha eseguito il volteggio Si chiuderà con la Torse d'Ottir E Dobbiamo aspettare soltanto il punteggio di Arianna Che purtroppo